ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 3 febbraio 2022 il sole sorge alle 7 e 22 e tramonta alle 17 e 21 vediamo subito prima di vedere le notizie sui giornali qual è il santo del giorno perché è un santo di stagione possiamo dire e san biaggio san biaggio di sebaste san biaggio è il protettore di coloro che soffrono il mal di gola insomma un male veramente di stagione e questi giorni bisogna prendere con le molle perché potrebbe essere sintomatico di una malattia piuttosto grave ma facciamo gli scongiuri parliamo un attimo di san biaggio san biaggio nacque a sebaste una località dell'armenia fin da giovane si appassionò alla medicina ma curava non solo il corpo curava anche lo spirito abbracciò la religione cristiana siamo nei tempi di diocleziano e fu fatto vescovo fatto vescovo a clamor di popolo però la persecuzione furoreggiava non solo quella di diocleziano ma quella posteriore di licinio san biaggio dunque si ricoverò in una caverna al di fuori della città ma fu scoperto e fu arrestato nel ritorno alla città fu accolto con un gran clamore di popolo il quale sfidò l'imperatore pur di acclamare il suo santo uomo e tra la gente che lo acclamava c'era una donna con un figlioletto in braccio che scongiurò il santo di guarire il bimbo al quale si era conficcata una spina in gola il santo gli fece il segno della croce e il bimbo che stava per morire guarì ecco perché il san biaggio è considerato il protettore contro il mal di gola poi in seguito fu imprigionato fu torturato fu insomma su di lui furono compiuti veramente tanti atti orrendi alla fine fu decapitato e fu martirizzato ma lasciamo un po questi ricordi un po truci venerando ovviamente il santo e passiamo alle previsioni del tempo vediamo che la situazione sulla nostra regione si mantiene in maniera stabile abbiamo sole e nubi e i cieli parzialmente nuvolosi a tratti nuvolosi per velature estese i venti sono deboli o al più moderati da sud ovest le temperature oscilleranno da 5 ai 12 gradi e però sono in calo sulle coste il vento spira da sud est ed ora diamo un'occhiata ai giornali questa mattina iniziamo dal resto delle carlino l'apertura è dedicata a una bella iniziativa fatta da due fanesi due ragazzi chiamiamoli così perché hanno uno spirito molto molto giovanile i nostri riciclosauri fatti di rifiuti è sostenibile il giurassic park fanese prende forma al furlo lo è ormai da diverso tempo l'idea di nigusanti e di giomaro il covid ci ha fermati ma siamo pronti a ripartire hanno detto i due come definirli artisti ingegneri tecnici insomma sono due che hanno con le loro mani creato veramente un parco eccezionale e poi ricordiamo anche che mirco nigusanti è conosciuto da tanti bambini perché è già ideatore dei pupazzi tiro e mulla e andrea giomaro il maestro degli effetti speciali di tanti film di successo come il racconto dei racconti di garrone è prometheus di ridley scott l'articolo è firmato da tiziana petrelli e ci racconta un po quello che si può vedere nel meraviglioso contesto del furlo dove è possibile fare l'esperienza della preistoria ovvero incontrare i dinosauri orde di ragazzini fino alle due di notte e la mattina per strada troviamo di tutto da un articolo positivo passiamo ad un problema quello che con cui si confrontano ogni sera i residenti di via nolfi sud quella che confina con viale 12 settembre sono esasperati questi residenti per gli schiamazzi di bande di giovani che frequentano un bar della zona insomma che ubriachi fanno un po di tutto vediamo c'è la violazione delle norme igieniche e anti covid che perdurano da tempo in via dei borgoggelli all'angolo con via nolfi in via mura sangallo persone che scorazzano ubriachi urlando sporcando ovunque con bicchieri di plastica cannucce e bottiglie di vetro fanno pipì nei muri delle case spesso rimettono per terra per non parlare poi delle litigate delle scazzottate delle risse che turbano la tranquillità del quartiere non è la prima volta che accade che accadono questi fenomeni in questo luogo insomma la ai vigili urbani magari di notte non ci sono ma almeno le forze dell'ordine sono invitate ad intervenire calci e schiaffi al figlio sordo papà allontanato un caso di violenza domestica si tratta di una quarantenne residente nel fanese che è stato accusato di ripetuti maltrattamenti anche nei confronti della moglie ma anche nei confronti del bambino bambino che ha una menomazione fisica e quindi ancora più debole calci schiaffi al figlio sordo così forti da fargli saltare anche l'apparecchio che aveva all'orecchio e poi anche botte alla moglie perché rifiutava di fare altri figli questo è un il comportamento di un quarantenne originario dello Sri Lanka marinaio che si è scagliato ancora una volta contro i propri familiari gli episodi rievocati in tribunale l'uomo è difeso dall'avvocato Pagnini il quale ha detto il mio assistito non voleva causare sofferenze né al bambino né alla moglie si tratta di dissidi in famiglia ha dichiarato mio padre mi bacia sulle labbra un'altra denuncia shock questa volta da parte di una ragazzina si tratta di un imputato una 46 anni originario del sud italia ma residente nel fanese da tempo insomma anche qui si tratta di comportamenti brutti definiamo così spesso l'uomo era ubriaco e si rivolgeva con atteggiamenti certo non edificanti nei confronti della bambina della ragazza e veniamo alla politica veniamo alla politica perché il sindaco massimo seri è in mezzo ad una diatriba sorta all'interno del partito democratico pd nel caos lo spettro del commissariamento la corrente fd minaccia futuro democratico minaccia di auto sospendersi dal partito dopo la decisione di idem di trattare con seri per sollevare fanesi dall'incarico del vice ebbene il sindaco però non ne vuole sapere mi sembra leggendo l'articolo di annamarchetti piena fiducia all'assessore vice sindaco cristian fanesi ha detto seri con il quale c'è piena sintonia dal punto di vista amministrativo il sindaco dunque esprime in modo chiaro la sua posizione sul cambio di deleghe che vorrebbe che si facesse la corrente del partito democratico di idem quella che ha vinto il congresso di dicembre scorso gli fa eco anche fanesi il diretto interessato a cui è stata chiesta la rinuncia a interpretare il ruolo di vice sindaco non sono stato nominato vice sindaco per la mia appartenenza a una corrente ha detto fanesi ma per i risultati raggiunti nella precedente legislatura e per la fiducia riposta in me dal sindaco comunque ci sarà un incontro tra la corrente maggioritaria del partito democratico e sindaco seri ancora la data non è stata fissata e sindaco un po così un po sdegnosamente possiamo dire insomma si è mantenuto sulle sue ha detto farò darò questo appuntamento non appena i miei impegni me lo consentirà insomma non ha tanta fretta di trattare con questa corrente massimo serio e non può mancare anche un articolo sull'aset anche oggi sui giornali senza partner gare a rischio anche aset fa i suoi conti e con tutti i documenti che stanno uscendo fuori in questi giorni ce n'è uno nuovo che parla sempre di quanto potrà essere il futuro di come di come quanto potrà essere il futuro della partecipata azienda del comune di fano infatti spunta una relazione datata dicembre 2021 proprio recentissima in cui si affrontano gli scenari dell'azienda fanese gas acqua e rifiuti il modello in house limita investimenti perché ovviamente da soli si va poco lontano secondo appunto questa ricerca e dopo gli studi sulla fusione aset e marche multiservizi ora compare una relazione sull'azienda fanese e sulle sue prospettive future realizzata appunto nel mese del nell'ultimo mese del 2021 dalla stessa aset relazione destinata agli amministratori e associ azionisti per fornire loro le informazioni e diritto appunto dell'assemblea conoscere le prospettive dell'azienda per quanto riguarda le decisioni future ma al momento tutto è in stand by e quindi non ci sono novità effettive salasso bollette anche i comuni piangono e piange soprattutto il comune di mondavio qui vediamo il sindaco e questa fotografia si tratta di mircon zenobi e ritratto nel suo ufficio in comune ebbene negli uffici del municipio di mondavio 60 mila euro in più solo per l'elettricità una bolletta cara anche per il comune il sindaco ammette difficoltà a fare quadrare il bilancio ma nonostante questo salasso il sindaco ha detto che non si prevedono aumenti della tassazione questo importante né per quanto riguarda l'imu conferma il primo cittadino che rimane al 9,8 per mille né dell'addizionale irpef che è allo 0,8 per cento buone notizie anche sul piano delle opere pubbliche per le quali è stato approntato un programma piuttosto corposo appunto di investimenti carboni presidente del circolo di fratelli d'italia a san costanzo si tratta della consigliera comunale nicoletta carboni è stata nominata appunto presidente del circolo di fratelli d'italia del suo comune a urbino la cnn la televisione americana rilancia la città ducale un fascino immutato un ampio reportage appunto della rete televisiva americana suggerita per una vacanza in italia e come fare un tuffo nel rinascimento ma in questo articolo non si parla soltanto delle bellezze di urbino ma anche delle criticità dei problemi di questa città che è sempre più bella urbino non ha una rete ferroviaria la più vicina è a 45 minuti di auto e gli aeroporti a più di un'ora insomma questa è una criticità e poi ci sono alcune brutture dicono soprattutto le guide turistiche che insomma sono più a contatto con i turisti e ne traggono gli umori brutture quali sono queste brutture dal nuovo ospedale ai quartieri dei cosiddetti casermoni fino alla piantata va detto che altre città antiche come quelle del veneto hanno fatto molto peggio arrivando a deturpare anche la zona storica urbino questo almeno la preservata insomma ci sono delle bellezze ma ci sono anche dei problemi da risolvere e poi vediamo ancora sulla pagina di urbino cioè dell'entroterra soprattutto perché si parla della fano grosseto ora sì che si va avanti e proprio in questi periodi ci sono notizie altalenanti per quanto riguarda l'esecuzione di questo progetto che è a lungo desiderato da tutti i residenti da una parte sembra che il progetto vada avanti dall'altra che si arresti ora invece sembra che ci sia un nuovo input per la realizzazione di questa nuova arteria per la conclusione di questa nuova arteria fano grosseto ora sì che si va avanti e lo si evinzie da un incontro con il commissario straordinario massimo simonini si termineranno i lavori lungo la guinza e il tratto verso cannavaccio dunque entro la fine dell'anno verranno terminate le opere della canna della guinza con la realizzazione di un marciapiede di fuga e quindi verranno messe in sicurezza tutte le aree esterne dal prossimo anno poi si partirà per lotti con la realizzazione delle opere stradali che vanno da cannavaccio dove in questo momento è in corso di realizzazione una rotatoria per arrivare appunto fino alla guinza e massimo simonini che il commissario straordinario appunto nominato dal governo per il completamento della fano grosseto è stato anche amministratore delegato dell'anas ad annunciare il crono programma dei lavori che verranno compiuti speriamo che questa volta sia veramente la fase esecutiva e poi a fondo pagina abbiamo l'assessore regionale stefano aguzzi che evidenzia provvidenze per quanto riguarda le case popolari riqualificare le case popolari finanziamenti dalla regione stefano aguzzi annuncia gli interventi che riguarderanno 371 alloggi cosa si farà in provincia ebbene ci sono 50 interventi di riqualificazione di case popolari il piano prevede l'investimento di 62 milioni di euro che coinvolgeranno petriano sant'angelo in vado tavoleto e montecalvo in foglia sono 138 le domande che sono state avanzate veniamo alla pagina di pesaro green pass controlli a campione ogni 5 e a volte scopriamo anche quelli falsi parlano così i commercianti i negozianti che sono deputati appunto a controllare che i loro clienti che entrano in negozio abbiano il certificato verde tabaccai edicolanti alle prese con le verifiche dei clienti il caso di tomassoli qualcuno prova a prenderci in giro con il certificato fasullo vaccini ai bambini debutto sprint agende esaurite in due giorni il centro asur di via nanterra pesaro gestito dai pediatri di libera scelta ha esordito ieri pomeriggio ed è stato un esordio efficiente e anche di successo perché il direttore esposto dice 50 dosi con richiamo a 21 giorni sono state somministrate ai genitori tranquilli e consapevoli per quanto riguarda la tutela dei loro bambini sanificazione e ritardo problemi tecnici la regione ammette i tempi dilatati e spiega spesso le domande non conformi da parte degli istituti poi difficile preparare gli interventi e chi sono gli istituti sono gli istituti scolastici che devono essere sanificati periodicamente per evitare il contagio tra gli studenti dietro fronte della giunta comunale di pesaro per quanto riguarda l'arredo del centro la qualificazione soprattutto del centro storico all'inizio aveva vietato la somministrazione di cibi di tipo esotico adesso invece si fa a fanno si dice granata para nel senso che vengono vietati tutti i take away dopo le accuse di razzismo il comune equipara le attività straniere a quelle italiane lungo i due assi del centro ovvero addirittura il documano è il cardo san francesco il corso 11 settembre via rossini e via branca importante è tutelare la bellezza della città hanno detto anche i negozianti stessi poi in questa pagina il resto del carlino evidenzia la polemica che c'è tra la curia la diocesi e la chiesa del carmine per la chiesa del carmine per quanto riguarda la pia unione l'associazione che ha in gestione appunto l'edificio la pia unione deve consegnare le chiavi però non ne vuole sapere oppure si profila la sconsacrazione ha detto appunto la chiesa lei lo lascia lui si vendica diffondendo video intimi ha processo un giovane di trani dopo essere stato denunciato dalla ragazza ma ora potrebbe schivare la condanna pagando i danni alla giovane vittima la giovane che è pesarese potrebbe appunto ritirare la querela in caso di risarcimento è tutto per quanto riguarda la fine di una relazione e lui si vendica appunto postando delle immagini arde nei social e veniamo ora al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che si parla dei problemi all'interno del Partito Democratico PD scontri senza quartiere Seri in milico tra due fuochi botta e risposta tra AIDEM e Futuro Democratico il sindaco invece tace insomma al momento non ha preso decisioni e cerca di stemperare l'atmosfera che è piuttosto infuocata all'interno del partito di maggioranza della coalizione un'isola salvagente in Viale Gramsci monito per auto e tutela per i pidoni stanno per essere conclusi gli interventi che si stanno facendo in Viale Gramsci dove scorre la nazionale nel tratto urbano più pericoloso perché ci dice l'incrocio tra via Negusanti e via Galibaldi è un'isola salvagente che può comunque indurre a moderare la velocità per quanto riguarda gli automobilisti e magari salvare un pedone che si trova in difficoltà perché magari si trova in mezzo al traffico verde pubblico, 41 ettari da affidare ai volontari l'amministrazione comunale interpella le associazioni di volontariato per curare il verde una componente importante per il decoro cittadino e poi sul fronte del turismo nasce la rete dei ristoranti di mare l'assessore al turismo Etienne Lucarelli insieme al consulente EIARC hanno così dato un proseguimento al progetto di valorizzazione del turismo di qualificazione del turismo accentuando la loro attenzione nel porto e valorizzando tutte le ricchezze, tutte le risorse che il porto può addurre nel settore turistico quello dell'enogastronomia ma anche quello dell'atmosfera, voglio dire, portolotta quello delle barche, della lavorazione del pesce delle passeggiate sui moli insomma veramente il porto può costituire un'attrattiva turistica importante per tutta la città subito la sospensione delle cartelle Tari lo chiede la Lega insieme alla convocazione urgente della Commissione Tributi per quanto riguarda gli accertamenti in corso che hanno costituito un aggravio in più oltre a quello rappresentato dalla pandemia e dall'aumento delle caro vita per tante famiglie fanesi che non se la passano certamente bene e poi qua abbiamo l'articolo che riguarda quelle violenze perpetrate in casa da un cittadino dello Sri Lanka nei confronti della moglie e del figlioletto rischia dai 3 ai 7 anni di carcere a Fossombrone deleghe anche a 4 consiglieri è la novità della Giunta Berloni il sindaco come promesso spazio alle potenzialità delle persone in assise e allarga il sindaco Berloni il coinvolgimento appunto dei consiglieri nella amministrazione della città a Maria Silvia Nocelli vanno la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali a Lara Esposti, la vediamo qui i rapporti con le partecipate a Marco Bartoli, Ambiente e Politiche Demografiche a Cristian Amadori, Sport e Gestione delle Strutture Sportive per quanto riguarda invece la Val Cesano nel sottopasso delle Rane il via alla ristrutturazione e siamo a Marotta il sottopasso delle Rane è uno dei più trafficati ebbene è stato danneggiato da un sinistro causato dall'urto del tetto di un veicolo addivito al trasporto della merce quindi ha bisogno di un intervento strutturale importante che durerà oltre un mese e comporterà delle variazioni alla viabilità della zona i lavori necessari al ripristino del sottopasso causeranno la chiusura sia in entrata che in uscita della strada nazionale dalle rampe alla diacente via Damiano Chiesa che porta verso piazza della unificazione queste appunto le deviazioni del traffico a Senegaglia tamponi rapidi anche troppo due farmacisti indagati per falso la finanza contesta ai fratelli Fulvi test ultra veloci è un'indebita percezione di contributi ebbene queste le accuse e qua invece in questo articolo con il fondo grigino abbiamo le difese i tempi indicati nel bugiardino parla l'avvocato Gian Grande legalo dei denunciati massimo rispetto delle regole nessun inganno afferma appunto il difensore veniamo ora alle pagine della regione niente dad per i vaccinati green pass senza scadenza sono queste le novità che interessano appunto l'aspetto sanitario dimezzato il periodo della quarantena sono gli ultimi provvedimenti alleggerite le regole anche per gli allunni delle materne il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto l'entrata in vigore forse già da lunedì prossimo e qua abbiamo la tabella con tutte le norme queste tabelle sono interessanti perché fanno una sintesi visiva oltre che esplicativa delle misure di cui si parla nell'articolo ed ora siamo al Pesaro ZTL sui permessi è stretta un freno anche ai Corrieri meno auto in centro storico sono otto i varchi controllati elettronicamente in entrata via Rossini, via Della Sonale via Spada, via Passere, via Varese via Castelfidardo, via Gargattoli e via Cataneo sono tre i varchi in uscita controllati elettronicamente via San Francesco, via Nathan e via Cairoli sono sei invece i varchi ancora scoperti in tutto il centro storico che hanno in previsione l'installazione delle telecamere e anche questi verranno appunto coperti con l'impianto visivo deciso nel salotto del centro non c'è posto per i take away quindi né per i kebab né per la piadina piadina che prima era ammessa ora viene vietata per non fare discriminazioni tra l'esotico e il locale i creativi del web per tirare la volata Pesaro Capitale sono i giovani un team di giovani che sa usare bene il computer può concorrere a valorizzare tutto il territorio per far sì che Pesaro vinca questa scommessa l'importante è quella che in questo progetto venga coinvolto anche tutto il territorio ovvero viene coinvolto Fano vengono coinvolti Urbino insomma c'è un concorso di forze che potrebbe essere la molla vincente per far sì che Pesaro e la sua provincia diventi capitale nazionale della cultura sotto monte freno alle mareggiate dalla regione fondi per il comune si tratta di 240 mila euro di contributi che verranno erogati per rafforzare le scogliere e appunto contrastare l'erosione marittima via Nanterre ab vaccinale pediatrico il primo giorno a quota 50 inoculazioni ne abbiamo parlato leggendo il resto delle Carlino ma anche il Corriere Adriatico approfondisce l'argomento per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini giriamo ancora la pagina e vediamo l'articolo della pedopornografia sul Deep Web 500 file sequestrati ad un 23enne bimbi filmati con adulti la polizia postale arresta un giovane residente nel Pesarese e originario di Iesi insomma ha scoperto veramente delle immagini non certo edificanti nel suo computer siamo in conclusione vediamo un attimo lo sport vediamo un attimo lo sport se riesco a trovare la pagina eccola è qui la V si incassa un bel punto dopo la vittoria di Pistoia ieri c'è stato appunto un nuovo incontro il risultato è stato Pontedera 1 Vispesaro 1 un buon pareggio a Cannavò risponde Magnaghi i biancorossi forse ieri avrebbero dovuto crederci di più ma alla fine va bene anche un pareggio per quanto riguarda invece il Fano Calcio vediamo che nel derby nessuno si fa male e anche il Fano guadagna un pareggio con il Porto d'Ascoli 1 a 1 e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti